E carissimi amici e amiche, un breve aggiornamento, video dalla macchina, perché vedete, aspettavamo, cioè si aspetta per il caso della scomparsa della piccola cata qualche notizia, qualche novità e io pensavo di essere stato un po' troppo severo nei confronti di questi genitori, di questi sospetti, di queste critiche, perché dicevo all'interno del loro ambiente insomma si cela il segreto, ora ed ieri la dichiarazione dei loro avvocati, perché poi hanno nominato ben due avvocati, sempre per la serie non abbiamo da che mangiare, e questi due avvocati nonostante siano i loro avvocati, hanno detto ci sono tre persone che sanno tutto e si riferiscono, si sono riferiti a quella signora Rom, che pure abbiamo visto a quarto grado, si sono riferiti a quel Carlos, che è poi il capo di questo gruppo di peruviani, e un'altra persona che diciamo loro chiamano l'aiutante di Carlos, ma io credo che si possa anche dire che sia Abel, anche se loro non lo hanno voluto dire, e parliamo del fratello di Caterina, la mamma della piccola Cata, cioè se anche gli avvocati di famiglia arrivano a dire tanto, beh c'è da pensare molto, poi hanno fatto riferimento a quello che anche io ho sempre detto, cioè a quella mattina del 10 di giugno, in cui si presentarono ben tre giovani presso questo ex hotel, a chiedere proprio di chi? Di Abel, e avevano, a detta di alcuni testimoni, avevano delle intenzioni minacciose, allora che cosa gli volevano chiedere, che cosa gli volevano dire, non si sa, però si sa che dopo qualche ora sparisce, sparisce la bambina, e allora, e allora qui non ci dobbiamo prendere in giro, perché? Perché l'atteggiamento anche di questo zio Abel, a me, che volete? Non mi convince, io non voglio accusare nessuno, ma sono libero di dire che l'atteggiamento non mi convince, perché? Perché questo stesso zio Abel, che aveva in custodia, diciamo, la bambina, quando poi sparisce, la cercano, poi vanno in tv a dire affare, lui dal primo momento non fa menzione di ciò che era accaduto quella mattina, cioè di questi tre giovani che lo cercavano, non fa menzione, diciamo, delle tensioni gravissime che ci stavano all'interno di questo ex hotel, quindi dà l'idea soltanto dello zio che va a cercare la nipote, quindi qualcosa non torna, perché si tace in questo modo e poi, allora, poi siamo noi italiani, va bene, che non andiamo con i castelli in mano a cercare la bambina. C'è veramente qualcosa di di strano, qualcosa che non va bene quando, quando si organizzano queste, queste sfilate, questi cortei composti poi peraltro da una decina di persone, con dire, gridando a squarciacola, cata, torna a casa, torna a casa, lei non c'entra niente, restituitela, restituitela, venite tutti quanti a questa, a questa, insomma, a questa sfilata, a questa protesta, ma protesta di cosa? Contro a chi? Cioè, noi vogliamo veramente giocare sull'equivoco, ecco, noi, purtroppo ahimè, ci sono tanti bambini che spariscono e divangono vittime di qualcosa di inspiegabile, magari di bruttissimi giri, però per dirne una, io ricordo a suo tempo nelle mie zone, quando ci fu il famoso caso di Angela Cialentana, no? Che, insomma, io conosco i genitori personalmente, perché fanno parte, diciamo, più o meno del mio paese, lì vicino, e ma allora, allora aveva senso, ecco, cercare, cercare, fare appelli, mettere foto, fare appelli alla gente che si unisse nelle ricerche, perché? Perché lì era sparita una bambina nel nulla, cioè mentre stava all'aria aperta, su una montagna, mentre giocava in un batter d'occhio, e lì si può pensare, si possono pensare mille cose, ma si poteva anche pensare, ancora tutt'oggi, che possa essere stata presa da un valordo, da una persona malata, anche così, senza aver fatto una progettualità, aver preso, mentre passava in macchina, di aver visto la bambina, quindi si possono pensare mille cose, e allora aveva un senso, oggi, per la piccola gata, cinque anni, non ha senso questo, la bambina non è che stava lì, stava al mare, stava in montagna, stava in mezzo alla strada, così a giocare, poi all'improvviso è sparita, allora diciamo, sì, acquisiamo le immagini di tutte le telecamere, vediamo bene, domandiamo a tutti quanti, ma voi, ma voi veramente, ma stiamo ammattendo, cioè è come se sparisse una persona che sta in casa mia, che vive con me, e che siamo sicuri che non è uscita da casa mia, perché lo dicono le telecamere, non è uscita spontaneamente, almeno da casa mia, e io uscissi in strada a fare appelli alla cittadinanza di cercare questa persona, ma qualcuno mi viene pure a dire, ma se questa persona non è uscita spontaneamente di casa, perché lo dicono le telecamere, e viveva in casa tua, lo devi sapere tu che fine ha fatto, o che fine l'hai fatto fare, ma ci siamo o non ci siamo, ci siamo o non ci siamo con questo ragionamento, allora non è che qui si è persone insensibili, per cui si dice, però ma c'è una bambina che è sparita, lo devono sapere loro, cioè questa povera bambina stava come se stesse in casa, cioè stava in questo ex hotel, quindi una sorta di famiglia allargata, però di famiglia di Caino Abele, direi io, veramente di Caino Abele, perché era una sorta di grande famiglia allargata in cui ci stavano alcuni nuclei familiari, in lotta fra di loro, in lotta acerrima, basata su ruberie, basata su traffico di droga, basata su soprusi, violenze, estorsioni, raggette degli affitti, è qualcosa di grave, è successo, e qualcuno ha pensato ignobilmente, vilmente di fare una vendetta del genere, una vendetta che passa attraverso una conoscenza, per forza dei luoghi, perché la bambina è uscita come è uscita da, certamente facendo quel percorso che è libero da telecamera, passando per dietro, per il costile, scavalcando un muretto, non certamente uscendo dal portone principale, e quindi da chi lo volete, io questo dico, ma pure coloro che si fanno garantisti del tutto, da chi lo vogliono, è possibile mai che non ricevano avvisi di garanzia? In Italia, ormai, nessuno ha più avvisi di garanzia, in Italia, insomma, siamo ridotti a questo punto qua, nessuno più riceve avvisi di garanzia per niente, niente, si delega tutto a, non so, a una prova scientifica, in questo caso si delega alle telecamere, come se fosse una sorta di prova scientifica, si cerca che cosa? Un DNA, si è fatto il DNA a tutti gli abitanti lì dell'ex hotel, come se questo DNA potesse trovarsi da qualche altra parte in traccia mista, cioè noi deleghiamo alla scienza una risposta che spesso la scienza nemmeno assolutamente fornisce, ma veramente nessuno in Italia ha più la forza e il coraggio di fare indagini vecchio stampo, vecchio stile, in questo caso qui, purtroppo, le indagini scientifiche non portano a nulla, non possono portare a nulla, bisogna fare indagini vecchio stile, vecchio stampo, mettere queste persone sotto torchio, veramente, ma com'è possibile? Passano i giorni, questi giorni caldi d'estate, viene steso un velo pietoso, e gli avvocati, che questi signori si permettono, ben due avvocati, pagati ovviamente, che anche loro stessi dicono, ci sono delle persone molto sospette all'interno della loro comunità, anche loro stessi lo devono ammettere, cosa vai a cercare? Cosa vai a tappezzare Firenze delle foto della bambina? Magari dice no, le facciamole pure in tutto il mondo, certamente facciamole dovunque, anche in Australia, però è da lì, da loro stessi, loro si dovrebbero vergognare del silenzio dell'omestà e i loro stessi, la famiglia, i gruppi legati alla loro famiglia, si dovrebbero vergognare di non parlare e di rendere questa situazione una tragedia, una tragedia, dell'ennesima tragedia che riguarda una povera bambina innocente. Spero che gli inquirenti veramente si diano una mossa con avvisi di garanzia, che magari possono servire a dare una svolta. Grazie amici miei, grazie, vi voglio bene, alla prossima e un abbraccio sempre, come dico, a tutti quanti voi.